Uno spaventoso incidente stradale si è verificato nella serata di sabato sulla strada statale 19 all'altezza del comune di Padula, nei pressi dell'ex passaggio a livello ferroviario nella frazione Scalo. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consiline e degli agenti della polizia stradale, due auto, una Peugeot Station Wagon e una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della Fiat Punto, sulla quale viaggiavano un carabiniere di Montesano sulla Marcellana con la moglie e il nipotino. Subito dopo il violento impatto alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato la centrale operativa del 118 e dopo pochi minuti sono arrivate due ambulanze che hanno trasportato i feriti in ospedale a Polla. Ad avere la peggio è stata la donna che era a bordo della Punto, per lei infatti in seguito ai traumi riportati si è reso necessario un intervento chirurgico nella notte. Intervento che è perfettamente riuscito ed ora la donna si trova ricoverata in prognosi riservata ma fortunatamente, secondo le indiscrezioni trapelate da ambienti sanitari, non è in pericolo di vita. Gli altri due feriti invece se la sono cavata con delle lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. L'uomo di Padula, che era la guida della Peugeot, è stato sottoposto all'alcol test e dal risultato è emerso che il tasso di alcol presente nel sangue era pari al doppio del limite massimo consentito dalla legge. Nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente. Gli agenti della polizia stradale e della sottosezione di sala Consilina ora stanno lavorando alla ricostruzione della dinamica esatta dell'incidente per stabilire eventuali responsabilità. Grazie. 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 Grazie.